musica 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 l'attacarghine ancora no l'attacarghine 18 metri di rullo eh si però non so se se che fa non so se dove c'entrai se se tocchi va bene è obbligo fare magari altri tre eroi fare il video e fare un attimo 10 secondi dei video mettere a tigre della malessia domani si? marti? no come no? domani è giovedì è giovedissimo madonna eh merda del signore ma com'è possibile perchè eh fare i campi che trasera madonna troia non mi ricorda in alto e vai vabbè vediamo se nessuno si ricorda sposteremo il logo di nitrato a destra ciao fans non bastardo Dio santo ma che roba eh ce ne sta in centro uno e altri due ma in centro non mi serve mamma cari mi dico che è la scena del primo qua ti nemmo 1 2 3 4 5 6 7 8 9 rulli eh è stato qui adesso aspetta aspetta che ingancemo daremo un po' di ingancemo per me l'ora aspetta bisogna attivarli adesso non mi basta neanche il zoom mamma mamma aiuto si intravesa aspetta credo un po' di video che ho fatto no adesso no no più forza ti hai una mano arrivo arrivo a oh oh ah che mestieri cos'è cos'è ah 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 si intravesa c'è amici da Drio qua vicini che si batte ah piccoglioni ah ah si intravesa assoluto ah se vi andare ah ah se per l'unica riesimo rimettere che l'alimentatore del cancarone si si dopo domenica metto a posto qua tutto ma scopo a terra metto in ordine e dopo se l'unica viene su a casa se l'unica l'unica mi affane oggi per che sia un po' a posto se l'unica vieni su vedi il regno dei cieli qua il massacro qua in terra ho letto ho fatto un secondo lungo venti metri non c'è data venti metri cos'è più chi ha perduto il tocco io non entro eh eh come cosa no non entro no resti in garage si che se 2 3 usare rostie o ho fatto la chignata a paese che se i guadoni piccari sulle lampade ma perchè marco se è un sgorbiato è un sgorbietto si un sgorbietto si ho fatto vedere grazie che perchè prevede un ban tra poco no 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 quanto sei mi mi boh non c'è 1,90 esatto ottimo tanto poi se lo metto mi sulle visite sulle visite ho sempre detto 1,72 1,60 1,72 1,75 ecco ma è la fine io sono 1,74 è la statura normale ma quella è la sua altezza reale però ho 25 centimetri al cuo eh quello non mi te la so questo è andato poco rilevante esatto io non è che me lo misuro per cazzo me ne frega ciò che è lungo non è che sta là col me io sono un caricatore eh questo è lungo 25 centimetri eh sono anche le forche eh eh sento tipo rimbomo sento eco si anche mi sentivo eco anche altra volta sentivo l'eco anzi l'altra volta sentivo il rumore del ventilatore dopo sentivo doppio quando qualcuno parla troppo forte si sente l'eco eco sul microfono mio magari si quando uno parla parli anche a te si sente l'eco ho detto le cuffie c'è le case eh si no non vuoi le cuffie basta ah eh però si sente quando uno parla parli anche a te si sente doppio eh domani andiamo a resana e andiamo in culo eh forse si vabbè 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 adesso l'ho sentito eh ma è in qualche massa ah 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 ma è ora dovuto che si è però dire vabbè no vabbè vabbè allora verpas vabbè 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 ho sentito vabbè adesso si sentito si e io ora sei il microfono mio di vabbè 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 è come ... io senti 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 vabbè fa tipo una foca ubriaca guardate il microfono, massa alto, volume sensibile eh, può darsi tu vuoi andare su, chiedermi no, devi andare sulle posizioni di PS mi chiede mi chiede si, devi andare su Capture e devi beh adesso, adesso ho messo a 30 c'è sensibilità ah, adesso ho messo a 30 poi apri e vedi ah, provo a sentire adesso in ritardo mi hai sentito tío, è che dopo parliamo normalmente parliamo così, no? però vabbè diverti con te ecco adesso hai sentito? sì allora allora vabbè guarda, sei in montagna io lo do mi chiede mi chiede mi chiede aspetta 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 ho saputo tutta la serata per queste cagate qua allo ci sono i miei mi chiede mario aspetta un secondo che cambi il cuffio perché parlo poco ci parlo poco che chiede che chiede che animali ma con il super tigre metti l'unione tra l'altro adesso è patrata? sì, sennò tutti i cubi lo sento meglio? in teoria sì metta però a parlare come il knee no si sente peggio ma ancora ecco il bonus ma si sente anche le voce diverse eh eh voce sento cambie diverse ecco non so non so può capire perché eh cambierà cambiati due microfono e quaità ah ora possiamo wow 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 ma per tanto che canta canzoni vecchie e stravecchie sarà da tipo 8 anni fa minimo 10 voglia adesso finché marco registra si ti metti su che il motore americano qua turbina motore americano quella turbina attenzione quello che faceva ah il generatore capo sfiamma ah era in germania per cammino metti in moto questo arrivo questo è il canto no anche la troia che parla no la troia che parla no no se ti metto su scagna vecchio no tecchina macchina tuning hai da sentire la tensione della turbina non tecchina cosa mi chiede? che la troia che sarà quasi 9000 litri di apporto 18 litri, vuoto, anzi W12 Cazzo di macchina aerea Non ricordo caudio, dovrei passare di tutti Questo qua c'è un vuoto americano Arrivano 6 cilindri Ehhh Vedi a moto carrozita dio Mettigli il sound del Kiro Eh, eh, anche si Si ma la devo, le Massacativo La macchina di Marco che fa pure qua Se capota, se ciò che vedi l'opicina ma non ha partenza del genere No, devi messo un video che c'è la turbina che non si incoppia 12 cilindri in linea Eh, ma sto qua in fase, non conosco Eh, ma sto qua a tutti Senti che amo Sento questo Senti il case del 1455XL Che era sotto sblitta Ah, quello del video, eh, senti il zetto che rumore che fa Ma no, come vieni a fare tipo che te provi a metterli in moto ma non hai in moto Così, ma prima che il parta Eh Eh, senti, senti, senti Quattro o tre volte, giusti e basta E te E poi L'ha messo in moto Ah, mi temo Sì Passa dai E frari E poi ti dici che tu sei arrivare un messaggio su te Dai, passa Anche, anche, sì, perfetto Veniamo e giusti A sé A sé A un telefono con la campanella del console della vicina Dov'è avere tipo il din din come ho io, la campanellina Adesso arriva la curva Sì, ma sai cosa mi tocca fare, devo scalare tutta la pagina per andare da un auto all'altro Prima ti aveva fatto giusto Sì, ma quello là del camion è il numero 40, quello della Formula 1 è il numero 36 No, prima ti aveva messo una sirena, prima, all'inizio Eh, però dopo di te fai tre mesi in moto, basta Eccolo lì E dopo mi dico, ecco, anche il messaggio mi arriva adesso Eh, chissà che mi rompi i coglioni Ma chissà che rompe le bale Casomai quando Marco Sì, sì, dico così a me Dopo te fai tre mesi in moto e ho lesa qua E dopo parte la sirena Sì, la Formula 1 Eh, che dopo, che dopo t'aco dire, ma chissà che rompe le bale E dopo mi giro che se Marco Eh, buongiorno Eh, buongiorno Eh, buongiorno Sì, la tua marchina ha problemi Sì, saluto tra Vabbè, se no, finimmo domani la registrazione Marco Ah, finimmo questa, finimmo Ma che paura la connessione al gioco, tu ti ho paura la connessione, guarda Vabbè, sento la gara Ah, che bello Ma che adesso è uscita Vabbè, tutti cacciati Vabbè, vabbè, parla Ciao Vabbè, avanti Ciao Vabbè, finire la puntata Vabbè, finire la puntata Vabbè, fare un robot Ma che cazzo stanno facendo? Vabbè, registriamo finimmo bene E se ne vuoi entrare E se ne vuoi entrare E se ne vuoi entrare Adesso è vero, il caricamento infinito Se cacciati le, 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 le fession quei a Mue Mh Che ti ti guettara a Ciave a TOT Ecco il telefono Se cacciati qui a Mue, ti ti avevè convinto Che fosse, che sia dura E invece ti fanno via Partera E con questo abbiamo concluso Grazie dell'attenzione e arrivederci Grazie 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 Grazie